Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti hanno partecipato al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius alle Isole Eolie. Durante la cerimonia la conduttrice è apparsa visibilmente commossa, come mostrato in un video condiviso da Aurora su Instagram. Nel video Michelle si asciuga le lacrime mentre assiste al fatidico sì della coppia, evidenziando l'intensità dell'emozione vissuta in quel momento. Aurora Ramazzotti ha rivelato l'emozione della madre tramite una storia su Instagram dove si legge «In lacrime dal primo all'ultimo secondo e Diletta Leotta me l'hai distrutta». Nel video Michelle chiede bonariamente alla figlia di interrompere la registrazione mentre si asciuga le lacrime con un fazzoletto. Questo gesto di condivisione ha permesso ai follower di vedere un lato più intimo e umano della conduttrice. Alla cerimonia hanno partecipato oltre 160 invitati, tra cui molti volti noti del mondo dello spettacolo. Tra questi Chiara Ferragni, Elisabetta Canalis, Elodie che ha fatto da Damigella, Eleonora Berlusconi, testimone della sposa, Alice Campello e Alessandro Martorana e gli youtuber Me Contro Te, Lu e Sof. Le nozze si sono svolte sull'isola di Vulcano, presso il lussuoso Teraja Resort, creando un'atmosfera magica e indimenticabile per tutti.